Benvenuti all'appuntamento con le anticipazioni della promessa, che vedremo presto su canale 5. Restate con noi fino alla fine del video, perché vi abbiamo preparato un piccolo regalo, uno sguardo di quanto accadrà alla promessa, un po' più avanti nel tempo. Ricordate di supportarci con un bel like al video. E ora, cominciamo. Mentre Don Lorenzo interrogerà Curro per scoprire se abbia informazioni su di lui ed Elisa, e se si ha a conoscenza dell'identità della persona che li ha visti baciarsi, a meno che non sia proprio lui, Simona e Candela faranno una sorprendente scoperta riguardo al loro insegnante. Le due donne si renderanno conto che i soldi che Don Carlos riceve da loro per le lezioni non sono l'unica fonte di guadagno per lui. È emerso che l'insegnante ottiene denaro extra in modo non ufficiale, e ora hanno l'arduo compito di scoprire l'identità di questo misterioso benefattore. Questa persona ha deciso di premiare il nuovo arrivato alla promessa, aggiungendo un ulteriore livello di mistero alla situazione. Determinate a svelare questo enigma, le cuoche si metteranno all'opera per indagare, ma presto scopriranno che i segreti e le sorprese non si limitano a questo. I misteri e i segreti alla promessa vengono presto alla luce, e Simona e Candela sono determinate a far luce sulle entrate sospette di Don Carlos. Le due donne sono convinte che l'uomo stia guadagnando molto più di quanto dichiari per le loro lezioni, suggerendo l'esistenza di un flusso di denaro non dichiarato da parte di qualcuno. Decidono quindi di coinvolgere Pia nell'indagine, sapendo che la sua posizione di governante le conferisce un'autorità che potrebbe essere utile nell'ottenere informazioni su Don Carlos. Con il suo aiuto, sperano di rivelare la verità nascosta dietro le attività dell'insegnante. Ma anche se questo mistero verrà risolto, è probabile che altri segreti siano ancora sepolti sotto la superficie alla promessa. È certo che qualcuno passi del denaro a Don Carlos, ma ciò che è ancora più intrigante è il fatto che conosca già Simona. La cuoca ha avuto contatti con lui in passato, chiedendogli assistenza per alcune lettere, ma è determinata a mantenere questo segreto nascosto ad ogni costo. La sua reazione al vederlo alla promessa è stata di paura, ma è riuscita a persuaderlo a mantenere il silenzio, soprattutto nei confronti di Candela, temendo di essere umiliata se il suo coinvolgimento venisse scoperto. Resta da vedere per quanto tempo potrà durare questo segreto e se le rivelazioni saranno inevitabili. Martina ha implorato perdono a Beatriz, ma purtroppo i suoi sforzi non sono stati sufficienti per placare l'ira della ragazza. La Marchesina si trova ora in una situazione sempre più difficile con la sua astuta nemica, e le complicazioni si sono acuite dopo che suo zio, Don Alonso, le ha ordinato di cacciare la nuova arrivata. Le cose sono peggiorate ulteriormente quando Beatriz ha scoperto l'affetto tra Martina e Curro. Realizzando che la sua preda è legata al cugino di Catalina, la giovane nobile ha deciso di prendere di mira Curro e di mettere in atto un piano subdolo e doloroso, sedurlo per far soffrire di gelosia Martina. Martina si rende conto di essere in una situazione estremamente difficile e di non avere molte alternative se non quella di cedere ai ricatti della nuova arrivata. Sarà costretta ad organizzare un picnic per Beatriz e Curro, anche se lei stessa non parteciperà. Questa decisione diventa inevitabile per evitare che il suo segreto venga scoperto da tutti. Beatriz, decisa a vendicarsi, minaccia di svelare il suo segreto di fronte a tutti, se Martina non ha consente ai suoi piani. La Marchesina si trova quindi ad affrontare una situazione difficile, in cui deve bilanciare il suo desiderio di mantenere la sua reputazione con la necessità di proteggere il suo segreto. Tuttavia, l'incognita rimane, riuscirà Beatriz a conquistare il cuore di Curro e a far soffrire Martina come lei ha fatto a Madrid. Solo il tempo dirà come si evolverà questa intricata situazione. Salvador ha deciso di fare un passo importante con Maria, chiedendole di sposarlo dopo averla tenuta lontana da sé per tanto tempo, al suo ritorno dalla guerra. La Fernandez ha accettato con entusiasmo la proposta, anche se ha notato un'insolita mancanza di entusiasmo da parte dei suoi amici. Tutti alla tenuta sono preoccupati per il rapido cambiamento di umore di Salvador e sembra che ci sia una certa confusione attorno al domestico. Tuttavia, superate le incertezze, si mobilitano per dare a Maria il matrimonio dei suoi sogni. Le sue amiche, ispirate da un abito da sposa che ha visto su una rivista e che le è piaciuto molto, decidono di replicarlo per lei, facendole un grande regalo e evitando che spenda una fortuna. Lope e Mauro sono sempre più ansiosi riguardo al matrimonio imminente di Maria e Salvador, specialmente dopo l'ultimo confronto con il giovane che ha rischiato di trasformarsi in una rissa. La situazione si fa sempre più tesa, e anche Candela si unisce alle loro preoccupazioni. Tuttavia, quando Candela condivide le sue preoccupazioni con Maria Fernandez, quest'ultima reagisce con irritazione, percependo le critiche come un'ingerenza nella sua vita personale. Nonostante ciò, Maria è consapevole che il matrimonio è come una polveriera pronta a esplodere. Nel frattempo, Romulo dimostra un interesse crescente per il matrimonio di Pia, ma la sua relazione con la governante sembra diventare sempre più fredda. Romulo infastidisce Pia con le sue continue domande sul suo matrimonio, mettendo ulteriormente a dura prova il loro rapporto. Nel mentre, Candela, entusiasta, prepara un appuntamento speciale con il maestro Carlo Sorengo. Desidera che sia una cena indimenticabile e chiede a Pia se possono utilizzare il suo ufficio per l'occasione. Infine, la tensione tra Elisa e Lorenzo raggiunge livelli critici dopo aver scoperto di essere stati coperti e di non essere in grado di gestire la situazione. La loro incapacità di mantenere il controllo mina ulteriormente il loro rapporto già precario. Una conversazione tra loro finisce in litigio e rimproveri. Ana continua a mettere in guardia Manuel riguardo alla presunta gravidanza fittizia di Jimena, convinta di ciò dopo aver sentito la donna parlare al telefono con sua madre. Nonostante le sue insistenze e le sue giurate sincerità, Manuel respinge le accuse, attribuendole alla gelosia di Ana. Tuttavia, la ragazza è fermamente convinta della sua teoria e sa quanto si è in gioco. Manuel, pur declinando l'offerta di lavoro a Milano, si trova di fronte a una nuova opportunità che potrebbe cambiare il suo destino. Tuttavia, le interferenze di Jimena rischiano di compromettere anche questa possibilità. La donna, infatti, ascolta la conversazione in cui Manuel comunica la sua decisione a sua sorella, e non reagisce bene alla prospettiva di vederlo allontanarsi. Nel frattempo, Martina raggiunge il suo limite con Beatrice e decide di non fingere più felicità e di non sopportare più i suoi ricatti. Se la sua ex amica vuole rimanere alla promessa, Martina è pronta a rendere la sua vita altrettanto difficile e a restituire il favore, manifestandoglielo chiaramente. E ora, un'anteprima speciale, ecco la prima immagine del ritorno di Cruz, un evento molto atteso che potrebbe avvenire già dalla prossima settimana. Nel prossimo video, vi daremo tutti i dettagli sul ritorno di Cruz e su un episodio emozionante in cui vedremo Ana rivelare la verità a suo fratello. Ma ora, passiamo a ulteriori anticipazioni provenienti direttamente dalla Spagna. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e condividete i vostri commenti con noi. Anticipazioni spagnole. Nelle ultime puntate della promessa trasmesse in Spagna, la situazione per Cruz diventa sempre più intricata. Cosa ha combinato questa volta la temibile Dark Lady? Pare che una nuova potenziale vittima si aggiunga alla sua lista, Curro. Tornando indietro, la Marchesa ha fatto una sconvolgente scoperta, Curro ha preso la verità sul suo vero padre. E non si tratta di Lorenzo dell'amata, bensì di Alonso de Luyan. Questa rivelazione getta Cruz nel panico, temendo le possibili conseguenze di questa rivelazione. Nonostante i suoi tentativi di allontanare Curro dalla verità, sembra che la madre di Manuel non sia riuscita a mantenere il giovane al di fuori della questione. La tensione è alle stelle e il destino dei personaggi rimane incerto. Cruz è determinata ad eliminare Curro per evitare problemi futuri, e discute il suo piano con Lorenzo, il quale si dimostra subito complice. Decidono di organizzare una battuta di caccia durante la quale, per errore, un proiettile colpirà il giovane. Lorenzo si impegna a trovare il sicario ideale per l'incarico. Il capitano non esita ad agire e, purtroppo, il piano va terribilmente storto quando Curro cade nella trappola. Per fortuna, il proiettile non è letale, ma il ragazzo rimane gravemente ferito e combatte per la sua vita. La situazione si fa sempre più tesa, e il destino di Curro pende in bilico, mentre i protagonisti si trovano intrappolati in un vortice di pericolo e inganno. I due cercheranno disperatamente di assicurarsi che Curro non sopravviva, ignari del fatto che qualcuno abbia iniziato a nutrire dei sospetti. Romulo e Pia, attenti osservatori degli eventi, noteranno delle incongruenze e si renderanno conto che qualcosa non quadra. Intrigati dalla situazione, i due decideranno di avviare un'indagine approfondita. Si pongono la domanda, l'incidente durante la battuta di caccia è stato realmente un evento casuale, oppure ci sono altri motivi dietro questo tragico evento? La ricerca della verità li condurrà in un intricato labirinto di intrighi e tradimenti, mentre l'ombra del sospetto si allunga su coloro che avrebbero potuto avere un motivo per desiderare la fine di Curro. Anticipazioni spagnole della promessa, il mistero di Vera. Nei prossimi episodi della promessa, un nuovo personaggio entrerà in scena, catturando l'attenzione di tutti, Vera. Ancora volta nel mistero, poco sappiamo di questa misteriosa ragazza che chiaramente cela un grande segreto. Lope, per caso, si imbatte in lei e, colpito dalla sua richiesta di aiuto, decide generosamente di portarla alla tenuta per nasconderla. Tuttavia, il piano di Vera per passare inosservata verrà svelato quando Cruz la scopre. Nonostante ciò, Vera riuscirà a ingannare tutti facendosi passare per una cameriera e, inaspettatamente, otterrà un lavoro effettivo quando Maria, in quel momento, sarà misteriosamente scomparsa. Il suo ingresso nella trama solleverà domande su chi sia veramente Vera e quali segreti nasconda, portando un ulteriore elemento di mistero nella storia. Vera troverà un'accoglienza fredda e ostile da parte del resto del personale di servizio, i quali la considereranno una usurpatrice del posto di lavoro di Maria, la quale verrà anche licenziata a causa della sua presenza. Tuttavia, mentre la tensione aumenta tra i domestici, inizieranno a verificarsi strani eventi. Ad esempio, durante l'arrivo degli ospiti per la caccia organizzata in onore di Curro, Vera si rifiuterà categoricamente di svolgere un incarico. Nonostante le istruzioni di ricevere un'amica di Margarita, la ragazza respingerà nettamente l'ordine di Pia, adducendo una serie di scuse per giustificare il suo comportamento ribelle. La sua disobbedienza solleverà ulteriori domande e aumenterà le tensioni all'interno della tenuta. Inizialmente, sembrerà che il piano di Vera funzioni e che riesca ad evitare di doversi occupare dell'amica di Margarita. Tuttavia, la situazione prenderà una svolta inaspettata e alla fine la nuova domestica sarà costretta ad occuparsi della donna, senza possibilità di evitare l'incontro. La giovane sarà pervasa dall'ansia che si trasformerà in terrore quando l'ospite in questione la riconoscerà. Cosa nasconde Vera? Chi è veramente? Le prossime anticipazioni spagnole ci riserveranno le risposte a questi misteri, lasciandoci in attesa di scoprire la verità dietro l'enigmatico personaggio di Vera. Nelle prossime puntate della promessa, Petra sarà al centro di un dramma emozionante. Un oscuro segreto legato al suo passato verrà alla luce, mentre un nuovo personaggio, Feliciano, entrerà nel panorama della SOP, portando con sé una serie di sorprese. La promessa anticipazioni, l'arrivo di Feliciano, il fratello di Petra. Un giovane di nome Feliciano farà la sua entrata alla tenuta, dove sarà immediatamente assunto come nuovo cameriere. Il suo arrivo sarà accolto con gioia da Don Romulo e dai Marchesi, che vedranno in lui un valido supporto e un modo per fare un favore a Petra, la cui relazione con il nuovo arrivato si rivelerà essere più complessa di quanto sembri. Infatti, sarà rivelato che Feliciano è il fratello della riservata cameriera personale di Cruz, suscitando grande curiosità e interesse da parte di tutti. La dinamica tra Petra e Feliciano prenderà una piega inaspettata quando la donna mostrerà un'affettuosità e un'attenzione insolite verso il fratello, contrastando nettamente con il suo solito comportamento distaccato. Tuttavia, dietro questa facciata di affetto si nasconde un segreto che potrebbe cambiare tutto. Cosa c'è la Petra, dietro il suo comportamento apparentemente affettuoso? Le prossime puntate promettono di rivelare i dettagli di questa intricata situazione, mentre la tensione cresce e i misteri si approfondiscono nella tenuta della promessa. L'atteggiamento affettuoso di Petra nei confronti di Feliciano lascerà tutti perplessi, poiché sembrerà trasmettere un legame molto più profondo di quello che appare superficialmente. Mentre questo avviene, un'altra vicenda scuoterà la tenuta, il momento della nascita del bambino di Pia. Tuttavia, la gioia sarà di breve durata quando il neonato verrà misteriosamente rapito, su ordine di Petra stessa, che covava gelosia nei confronti della felicità della sua rivale. La governante, approfittando della situazione, trascorrerà del tempo con il bambino rapito e sembrerà addirittura progettare di portarlo a vivere con lei alla promessa. Questo comportamento agirà come miccia su un fusto di dinamite, facendo esplodere la rabbia e l'ira di Petra in modo incontrollabile. Le origini di tutto questo astio e risentimento saranno presto svelate, rivelando un segreto sconvolgente. Si scoprirà che Petra, a differenza di Pia, non ha potuto vivere con il suo bambino, che le è stato strappato alla nascita. Ancor più sorprendente, verrà alla luce il fatto che il bambino amato e cresciuto come fratello da Feliciano non è altro che il figlio di Petra. La rivelazione sconvolgente scuoterà le fondamenta della tenuta della promessa, lasciando tutti a riflettere sulle complicazioni e le tragedie nascoste dietro le apparenze. Petra ha vissuto una giovinezza segnata da terribili esperienze accanto al padre, esperienze così dolorose da indurirla, e a celare il più grande segreto della sua vita, essere diventata madre. La vita l'ha costretta a nascondere il legame con suo figlio, una verità che ha portato con sé come un peso per anni. Questo segreto ha forgiato la sua personalità, rendendola più riservata e distante, e ha contribuito a creare un muro intorno al suo cuore, rendendola diffidente e fredda agli occhi degli altri. La rivelazione di questa verità segreta sarà un momento cruciale per Petra e per coloro che la circondano, poiché getta nuova luce sulla sua storia e apre la porta a una comprensione più profonda della sua vita e delle sue azioni. La rivelazione scioccante di Petra sconvolgerà tutti coloro che la conoscono, poiché confesserà di essere stata vittima di abusi da parte del proprio genitore. Questi abusi hanno lasciato un segno indelebile sulla sua vita, culminando in una gravidanza non desiderata. Ancora più devastante è il fatto che il padre di Petra sia anche il padre del suo stesso figlio, rendendo Feliciano non solo il risultato di un abuso, ma anche di un incesto. Per proteggere se stessa e il figlio, Petra ha dovuto nascondere la vera natura del loro legame, costringendosi a mentire e a far passare il giovane come suo fratello. Questa terribile verità porterà a galla un'oscurità nascosta nel passato di Petra e avrà conseguenze profonde sulle relazioni e sulle dinamiche all'interno della promessa. Quando la verità verrà rivelata, Feliciano sarà travolto dall'orrore e dalla confusione di scoprire la vera natura del suo legame con Petra. Inizialmente, non riuscirà ad accettare questa terribile verità, ma con il tempo, e dopo aver riconciliato il rapporto con la sua vera madre, penserà di punire suo padre e di farlo nel modo peggiore, assassinandolo. Decideranno quindi di prendersi qualche giorno di vacanza, chiedendo ai marchesi il permesso di assentarsi dalla tenuta. Durante questo periodo, Petra e Feliciano si recheranno nella loro casa per affrontare i fantasmi del passato e per risolvere le questioni in sospeso con il padre di Feliciano. Al loro ritorno alla tenuta, porteranno con sé il peso delle loro decisioni e delle azioni compiute, ma saranno determinati a mantenere segreto, il vero motivo della loro assenza. Nonostante tutto sia cambiato, decideranno di proteggere la reputazione e l'equilibrio della famiglia, mantenendo il segreto ben custodito tra di loro. Petra, appena riconciliata con il figlio, dovrà affrontare una tragedia ancora più grande, Feliciano sarà coinvolto nello stesso brutale attentato che metterà in pericolo la vita di Curro. Il giovane sarà gravemente ferito e, nonostante i tentativi di Petra di garantirgli le cure necessarie, sarà costretto a subire un intervento chirurgico in condizioni disperate e senza anestesia. Le precarie condizioni igieniche dell'operazione causeranno un'infezione devastante, portando infine alla morte di Feliciano tra le braccia disperate della madre. La perdita del figlio lascerà Petra devastata e tormentata dal dolore e dalla rabbia. Potrebbe decidere di voltare le spalle a Cruz e di cercare vendetta contro di lei, rivelando magari qualche suo oscuro segreto. Con la sua determinazione rafforzata dalla perdita, Petra potrebbe rappresentare una minaccia imminente per la Marchesa, portandola sull'orlo dell'abisso. Cruz, stavolta, potrebbe trovarsi di fronte a conseguenze catastrofiche per le sue azioni. Terminano qui queste nostre anticipazioni. Se volete ricevere nuovi video della serie, scrivete, voglio il seguito nei commenti e, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per ricevere in anteprima le prossime pubblicazioni. Grazie